Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oltre ragazzi faccio questo video su FIFA. Come vedete, io vi faccio vedere la mia rosa, sono il Manchester City. Questa è la mia squadra. Sterling, Allan, Marat. C'è la nobolo, Silva, che ora vi faremo fare il ruolo. Cdc, poi De Bruyne, Laporte, Cansello, Dias, Walker e poi abbiamo un portetto. Allora, in questo video dovremo accettare ogni offerta che ci arriva, tipo anche per Allan, anche un centesimo. Allora, incominciamo e andiamo a fare questa prima partita contro il Tottenham di campionato. Simuliamo la partita veloce e vediamo come va. Speriamo bene. Pareggio ci sta, abbiamo subito ancora il 47esimo, abbiamo segnato il 83esimo con De Bruyne. Andiamo avanti. Vediamo. Vediamo qualche offerta, però spero il mercato sia chiuso. Quindi andiamo direttamente, saltiamo tutto e andiamo direttamente a gennaio. Il mercato è ancora aperto, però andiamo a gennaio. Allora. November, dicembre, gennaio. Ecco, arriviamo qua. E andiamo. Andiamo. Vediamo come andiamo. Allora. Seconda partita di campionato. Speriamo di vincerla. Vediamo. 4 ore. Perfetto. 3 punti. Poi. Siamo contro l'Arsenal in casa. Bella squadra. Vediamo. E poi, con tutti i soldi che ricaveremo, se ci liberano qualche giocatore, ci prenderemo il mappè e un portiere di riserva. Dato che, no, non penso. Vabbè, dato che abbiamo solo Enders, a me, e abbiamo un 74, prendiamoci uno di riserva. Stavo già pensando a Donna Roma. E gli faccio giocare la Champions. E già. Ora, diciamo contro il Paris in Champions. Speriamo bene. E... Sapete. Vabbè. Stavo andando un po' malino. Interrumpiamo un attimo e andiamo a prenderci qualcuno perché stavo andando molto male. Allora, facciamo che ci prendiamo un centrocampista che costa poco. e che può fare anche il difensore. Quindi come, tipo, che c'è? Allora, andiamo intanto a cercarlo. Potrebbe essere... Tanto lo prendiamo, lo prendiamo, andiamo, andiamo... Cerchiamolo in Premier, in Premier. Dove c'è qualcuno? Allora, Premier, Premier... Ecco qua la Premier. Poi, squadra, cerchiamo un attimo nel Liverpool. Andiamo a vedere. Allora, nel San Bernard non do. Bradley no. E no. Andiamo giù. Elliot no. C di C? C o C no. E no. Fabinho. Possiamo prenderci Fabinho. Oppure... No, sono lui. Bell'acquisto per voi? Vabbè. Continuiamo a guardare. E no. Mi sembra solo lui. Prendiamoci questo Fabinho. E vediamo se riusciamo a fare qualcos'altro. Vediamo. 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 Vediamo, vediamo. Andiamo a vedere se lo facciamo a prendere. Il tonale lo facciamo a prendere, ma... C di C di C di C di C. Ma! Tonali! Oh! Fabinho! Fabinho costa di più. E noi non abbiamo tantissimi soldi. Quindi prima proviamo con tonali. Contato però questo. Allora, vediamo. Offerto per cartellino. Andiamo di... Andiamo di... Andiamo di... 50 milioni. No, ho bagliato. Scusate. Andiamo di 50 milioni. Applica. Perché mi da così? Allora, proviamo a vedere. E gli diamo pure... Gli diamo pure... Un... Un terzino. Gli diamo... Wilson... No, troppo scatto. Gli diamo un cento... Una... No, 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 perché mi servono. Centrocampisti, De Bruyne, Roddy, Dio, no, no, perché mi arriva a finire. Prima conferma il video. Avanziamo l'offerta e vediamo. Vediamo. No. Eh, eh, si sono sbagliati a scrivere. Vabbè. Prima con questo Fabinho. E vediamo. Contato per acquistare. No, no. Quanto voglio. Vabbè, tanto scriviamo l'offerta per cartellino e poi gli diamo... Vediamo in fatto quanto rari. 50 milioni? Appena. Perché? Scusa, mattina. Il mio negozio ha fatto cartellino. Allora, non so. Un'edita. Non siamo. Vabbè. E vabbè, gli daremo scambio giocatori, gli diamo un ally, gli diamo Foton, Sterling, Marazzi, Jesus. Vabbè, tanto non stiamo usando, diamo un po'. Andiamo. No. Ehm, vabbè, tanto nel frattempo saluto tre dei miei iscritti che sono Simone, dirigente della mia squadra. Poi, Davide Pongilupi e, infine, saluto Malleo Demurotti. Nel prossimo video saluto altri tre e io. Andiamo avanti. Allora, abbiamo andiamo di non so la squadra, però Silva non può giocarlo. Non può giocarlo. metto un fernardino. Dove è fernardino? Fernardino, 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 che si può giocare. Ok, Silva lo facciamo giocare dopo. Tanto lo abbiamo perso, tanto lo giochiamo, mettiamo lo fai dopo. Poi direi di andare, ah no, non lo trovo, lo ho convocato. Come mai? Ah no, avanti, tanto lo diamo un po' a posto, voglio che capisci il mente. andiamo a saltare e vediamo se ci arriva qualche qualche come dire, tipo qualche qualche fissate eh, non mi ricordo più il nome, vabbè, vabbè, noi andiamo avanti e vediamo cosa succede. Speriamo non mi prendano Alland, perché devo accettare tutto, vediamo? Qua però devi dare la nazionale, ma no, non andiamo andiamo avanti, simula tutto, avanti e andiamo. Coppa, partita di coppa contro il Redford e speriamo di andare bene. Vediamo. Per adesso non stiamo andando benissimo, quindi speriamo di vincere almeno. questa partita e andiamo. Simula veloce, ti prego. Sei, 4 a 1, Rodrigo, cioè Rodi, Cerenoglu, poi andiamo giù a vedere, De Bruyne e Marez, perfetto. Andiamo avanti. Poi, vediamo, vediamo. Ho arrivato qualche notifica. No, avanza. Cosa è? Vediamo? Offerta con il trasferimento di? No, Fernandinho, no, ti prego. Dobbiamo accettare ogni, ogni, ehm, trattativa o offerta di mercato da altre squadre lo dobbiamo sempre accettare. quindi, addio Fernandinho. Andiamo avanti. Vediamo, anche se c'è tanti punzi, centesimo per Alland, lo dobbiamo sempre accettare. Siamo 14esimi in classifica, male, male, male. Male, ma più, male, male, male. male, male, male. Proprio tanto male. Due a due ci sta un pareggio. Alland e Sterling, buono. Siamo proprio messi male, questa, in questa nuova carriera. Champions, Fino di Champions. Andiamo avanti. Ok? Vediamo conto di video. Siamo Club Bridge. Ah, ci siamo, un bel, un bel giro, diciamo, eh? Non vanno, ci sta andando. Siamo la tutta, ma non ci si. Ok? Vediamo. Ok, Club Bridge. Gioco partita. Simuliamo veloce. E mettiamo. Oh, prego. Sì, tre punti. Maret, Sterling e Alland. No! E' fortunato da Henderson. Dobbiamo andare a comprare un portiere. Dobbiamo prendere un portiere. Dobbiamo prendere un portiere, se no non ce la facciamo. Dobbiamo prendere un portiere, se no non ce la facciamo. Allora. Rosa. Ah, si è rotto. Oh, mio Dio. Ora come facciamo? Cosa si è fatto? Non ce l'ha scritto. Vabbè. Tanto facciamo giocare Rodri, al posto di Fernandinho. E ora dobbiamo andare a prendere velocemente. Un giocatore. Allora, tanto facciamo giocare un po' i miei giocatori. ritroviamo un attimo a H. E, ma adesso. Vai. Vediamo un attimo come vanno. Se ne vanno bene, mi rilascio. Se no no. Allora, tanto, vado a prendere un giocatore, perché, cioè, un portiere, perché se no, sono finito. Però, proprio ora si deve rompere, cioè, no, lì sono troppo costo. Andiamo a dire, sì. E' giù, e' giù, e' giù. Ok. Guarda, 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 guarda. Quanto costo un alunno? Ciao, 106 milioni è troppo. No, allora, si può fare. Andiamo a vedere. Eh, perché, eh, se gli ha il Navas a me piace. A me piace molto. Mi piace, piace. Vabbè, andiamo a vedere. Un attimo, Navas. Quanto da però che stare? 15 milioni, eh, ce li abbiamo, ce li abbiamo, ce li abbiamo, possiamo farlo, possiamo farlo. Ce li abbiamo. possiamo farlo. Allora, a fare per cartone. No, un paio di atto. Modifico, facciamo, eh sì, facciamo. Facciamo, applico. Eh, va bene, avanti. Facciamo, facciamo, vediamo. Vediamo. Più a che vogliono. 11 milioni a che, ma, accetto. Ci serve per forza un portiere, perché se no, la nostra stagione è finita, ragazzi. La nostra stagione è finita. La nostra stagione è finita. Poi, ora lo trattiamo, no, vediamo. Trattiamolo. e ce l'abbiamo. Dai, andiamo avanti. Questo qua, fino a 22, non è ancora, fino a 23, perché non sono riuscito ancora a prenderlo, però, vi porterò poi un video, dove, eh, vi porterò fino a 23. e cruciale, accettiamo. Poi, no, non due anni, tanto poco. Almeno, quattro. Quattro anni, va bene. Andiamo. Due, tre, no, ho troppo aperto, devo fare tre. Tre. Va bene. Poi, ignoriamo. Quindi va bene. Ok. Navas è con noi. Navas è con noi. Andiamo avanti. Allora, andiamo subito a metterlo. Oh, Anderson, guarda. Mi sei lì più forte. Navas, dove? Dove è Navas? Dove è Navas? Aiuto. Hai un problemino? Dove è Ancora, in modo di riprendere. Chi mette? Più è più forte, stai al freddo, vai a stare. Vai, vai, ecco. Allora, c'è la mia. No, non c'è la mia. Non c'è la mia. No, 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 no. no. No, andiamo a giocare la prossima che ce l'abbiamo contro il liverpool dove il liverpool in passivo che faccio giocare più forti ciao l'ultimo ottavo con 10 punti ma chi aprì all'ora con il liverpool rosa da far giocare loro, tolgo jesus, metto mares e tolgo silva e metto h dove c'è la? c'è la? mi sei morto? ok andiamo a vedere un attimo perché allora mi servono mi servono, all'aglio dai un po' di colle eh andiamo andiamo eh liverpool è una bella scuola l'infortunità non ci voleva ok andiamo qua vediamo un attimo vediamo giocatore ingegnato con il nazionale no quanti? chi sono? no ti prego vabbè raga facciamo l'ultima partita che poi devo andare e vediamo speriamo vada bene allora oh speriamo bene dai tre punti ci portiamo a casa mi prego ma peccato però va bene va bene bravo per nando mares bravo va bene va bene con calma con calma facciamo l'ultima cosa e poi vado allora intanto vi faccio vedere chi è impegnato con il nazionale rosa tanto mares non mi piace più perché non sta secondo me ci metto jesus qualche cosa ti posso lasciare è arrivato navas non è ancora arrivato perfetto guardi ma dov'è aspettate ma oh mi sono un attimo confondendo island è venuto eh sì island e navas è venuto non è nata tutto ok è venuta anche se è venuta non è venuta che cosa c'è WTF? Hold on mi sta brullando ho qua qui c'è parte di un giro no 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 accettato non dà riva va bene prendiamo un attimo tanto proviamo a vedere un attimo però anzi facciamo le sue cose insieme e cambiamo un attimo il numero di maglia perché non mi piacciono andiamo a vedere il modifico dei datori penso no ah si 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 alberosa andiamo su vediamo vediamo un attimo come è c'è una no ecco 18 c'è una no mi sembra proprio no numero di maglia gli diamo il vediamo possiamo dare il dai un bel giocatore gli do no il 12 va bene il 12 dopo il 17 bernardo silva no dove è all'andrano gli devo dare il no si 15 si ciao 15 alland no 15 alland proprio per niente gli diamo il 9 9 o 10 e poi facciamo l'ultimo che è voglio cambiare stendim stendim ecco no 7 va bene va bene va bene va bene se vi è piaciuto il video lasciate like se vi piace il mio video iscrivetevi al canale ci vediamo nel prossimo video ciao